È tutto un sistema che deve assumere, prendere le proprie responsabilità. È tutto un sistema che deve cambiare. E il sistema in questione parla del mondo del calcio, in particolar modo in relazione ai fenomeni di atti di discriminazione e di rassismo all'interno degli stadi. Però, Presidente, gli stadi sono parte della società. Gli stadi sono pezzi della società. E la complessità della società è ciò che si esprime all'interno degli stadi. Si chiama rasismo. E il rasismo si esprime attraverso il pensiero della bianchizzazione. Ed è quel pensiero che ritiene che la luce è bianca mentre l'oscurità è nera. L'ignoranza è nera. L'intelligenza è bianca. La capacità di elaborazione è bianca. Mentre, quando il nero inizia ad agire, a pensare, ad elaborare, a riflettere, viene circoscritto, esce dalla sua sfera di naturalità, perché ciò che è naturale è bianco. Allora voglio parlare qui di come noi, la politica, il governo, intende affrontare il tema della bianchizzazione del pensiero. Ed è quello stesso pensiero che si manifesta attraverso il linguaggio della politica, quando utilizza il termine della sostituzione etnica, quando utilizza il termine dell'equazione tra migrazione e criminalità, quando utilizza il termine dell'equazione tra Islam e terrorismo, quando utilizza il termine dell'equazione tra ciò che viene ritenuto civile, luce, e ciò che viene ritenuto buio, oscurità. Cioè tutto ciò che si manifesta al di fuori del bianco. E sappiamo tutti, Presidente, e il Ministro, questo lo converrà con me, che siamo di fronte a una costruzione sociale che gerarchizza la società, che non riesce a dare una lezione ai bambini, quel mondo del calcio, i giovani, i piccoli, che guardando ciò che avviene negli stadi, si pongono la domanda, ma quante è che avremo in Italia, nei nostri stadi, un allenatore nero, un arbitro nero? Quante è che avremo in Italia, all'interno del nostro Parlamento, quando un onorevole si alza fa un intervento e non viene preso con gli insulti da scimmie, come è successo a Mike Magna, come è successo a Lukaku, è successo in questo Parlamento? Concludo, Presidente, invitando il Governo, istituiamo il codice etico contro il rasismo, non solo negli stadi, ma nella società, in questo Parlamento. Io la ringrazio. Lei ha detto che gli autori sono stati individuati, ma ancora siamo in attesa da quasi un anno dell'individuazione di chi ha avuto un linguaggio rasista nei miei confronti in quest'Aula. Non era nei miei confronti, ma per i nostri figli, i bambini, i giovani, quella Italia plurale, multietnica, che guarda il Parlamento come l'espressione più alta della democrazia. Lavoriamo, affrontiamo il tema del rasismo, non possiamo stare nel 2024 e avere ancora una legge come la bossi fini nel nostro Paese. Concludo, non possiamo stare nel 2024 e avere nel nostro Paese bambini nati e cresciuti nel nostro Paese senza cittadinanza. Il rasismo si combatte materialmente, ma soprattutto culturalmente. Grazie.